Se la domanda è ci credi nella casa del volontariato, la risposta è ovviamente no, perché il volontariato innanzitutto va tassato, va tassato a prescindere, si parla di tassa sul lusso, fare i volontari è un lusso, conseguentemente va tassato, il volontario va tassato a Milano soprattutto dove la gente dovrebbe lavorare, non pensare a quelle cose lì, il lavoro, poi se c'è chi non ha lavoro, ragazzi, nella vita non è che si può avere tutto, per cui la casa del volontariato innanzitutto dato che è una casa, dato che abbiamo bisogno, ci mettiamo sopra l'ici perché sono soldini che entrano nelle casse, dobbiamo pagare cosa, dobbiamo pagare tutti i falsi parcheggi degli invalidi, dobbiamo pagare tutta quella roba lì che alla fine qualcuno la deve pagare e chi non la deve pagare se non il volontario, un perditempo diciamocelo chiaro, uno che va in giro così, farfugliando io aiuto la gente, aiuta te stesso perché il mondo va in quella direzione lì, l'egoismo è il nuovo trend, basta volontariato basta aiutare, ti ho chiesto qualcosa? No, e allora cosa mi aiuti a fare? Aiuta te stesso aiuta la tua famiglia, aiuta i tuoi parenti, ecco questo è un ragionamento tipico che potreste sentire a Milano, io spero proprio che non lo sentirete stavolta e spero proprio che qualcuno si metta una mano sul cuore, che mediamente è all'altezza del portafoglio e che abbia un atto di bontà che si trasforma in un atto anche utile, perché la bontà e l'utilità spesso non vanno d'accordo, essere buoni non basta, bisogna fare le cose.